Ecco dove stanno, vedete? Vedete dove stanno? Tutto a norma, tutto a norma, tutto sistemato, tutto a norma, i miei complimenti veramente, veramente, questo dobbiamo guardare, questo dobbiamo guardare, guardate, abbiate vergogna di quello che si vede. Capito? Dove stanno loro, mezzo a monizia, mezzo a tutti, questa è la verità, questo è quello che dobbiamo vedere. Ci pensiamo, non vi preoccupate, non vi lascio solo, tranquilli.